Se stiamo molto attenti a non perdere, ma perché ci fanno i supermercati, oppure veniamo a cercare i migliori, e qui troviamo roba che ci sia a prestare a un buon prezzo. Se vi vale il giro dei banchi, va che il giro dei banchi, oppure se le volte abbiamo i nostri, diciamo, i venditori, ci siamo in macchina, ma anche se troviamo delle merci, non spesso un po' più tanto, ci fidiamo di loro, perché non lasciamo qua la qualità. Grazie a tutti, grazie a tutti.